Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati carissimi amici di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo. Nel corso di questo lunedì, giorno di ferragosto, assisteremo ad un nuovo peggioramento a cominciare dalle regioni del nord a causa di infiltrazioni instabili provenienti dall'Atlantico. Altrove, in particolar modo ci riferiamo al sud, avremo un consistente miglioramento delle condizioni meteorologiche per effetto di un rinforzo dell'alta pressione. I fenomeni più interessanti coinvolgeranno il settentrione e parte del centro, ovvero Marche, Toscana e Umbria. In Abruzzo, pertanto, ci aspettiamo una giornata di ferragosto complessivamente stabile, soprattutto al mattino con cieli poco nuvolosi, con ampi spazi di sereno, al più qualche nube medio-alta o qualche velatura che non produrrà precipitazioni. Tra pomeriggio e sera un po' di nubi in più, ma parliamo sempre di nubi alte, non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi, al più qualche brevissimo piovasco in montagna. Le temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra i 30 e i 33 gradi, una mattinata nel complesso più gradevole, con valori minimi all'alba, tra i 14 e i 22 e i 23 gradi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.